Benvenuti in questo nuovo video di Minecraft, oggi facciamo una gara contro Mark e Marci, vedremo chi riuscirà a prendere più diamanti, ma non sarà una sfida normale, infatti utilizzeremo dei tools, diciamo, quindi degli utensili molto particolari, perché saranno stranamente lunghi e con dei poteri veramente incredibili, quindi il piccone sarà lunghissimo, l'ascia sarà lunghissima, le spade saranno lunghissime e ci daranno dei poteri veramente incredibili per questa sfida. Vedremo chi vince le diamanti e chi li vincerà se li potrà tenere nella propria casetta. Ciao bellissimi, venite qui, venite qui, forza! Ciao a tutti! Abbiamo una cest piena zeppa di novità, ragazzi, oggi cose veramente incredibili che su Minecraft non si sono mai viste. Ma quanto incredibili, Stef? Tanto, tantino o tantissimo? Più di Mark è nascosto dietro quell'erba lì che pensa di essere nascosta e lo vede chiunque. Sto cercando il bambù, non lo trovo, dove cavolo è? Il campione ce l'ho già nell'inventario. Ma Stef è avanti, dico io. 23 e 17. E questo non lo puoi toccare in nessun modo. Che schifo, che schifo. Allora, venite qua con me, forza, forza, forza. Ok. Guardate qua, guardate che roba incredibile. È della carne. È della carne. Mi servirà. Dai ragazzi, oggi dobbiamo mangiare tanto? Sì, sì, sì. Facciamo una grigliata tra amici. Esatto. Oh, che buono. Che buono. E' proprio quel genere di video. E' proprio quel genere di video. Si può grigliare la pasta al sugo, ragazzi. No, campione, non si può. Non la vuoi la bistecca al sugo? No, che schifo, Tanto. Ragazzi, su Minecraft e Marche morirebbe di fame, sentate. Comunque, non perdiamoci, per favore, che qui la gente è curiosa. Allora, quest'oggi facciamo una sfida a chi prende più diamanti. Ok. Ma sarà una sfida veramente particolare. In primis vi voglio dire che il vincitore si terrà davvero i diamanti. E già questa è una grande cosa. La seconda cosa che voglio dire è che non utilizzeremo dei strumenti classici, ma utilizzeremo qualcosa di veramente particolare. Quindi adesso venite assieme a me, vi mostro come funziona e poi facciamo partire la gara. Allora, state pronti psicologicamente perché una roba del genere non si vede tutti i giorni. Noi osserviamo, ma devi partire proprio dalla base e fare la crafting. Eh sì, è una vanilla pura, Fere. Mi sembra un po' poco organizzato, Stef. Guarda, Marci, io apprezzo quello che tu hai fatto, però l'avevo già fatto. No, non fate la doppia, però non sprecate legna. Allora, facciamo, cosa riesco? Adesso non riesco a creare nulla, ma no, devo spaccare un altro pezzo di albero. Aiutiamo, ragazzi, dai. Ok, no, no, ci sono, ci sono, ci sono. C'è, 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 no, lasciamolo fare, ragazzi, cioè io sono curiosa, voglio vedere la sua preparazione oggi. Vai, siamo concentratissimi, guardaci. Io creo un piccone normale. Ok. Poi faccio questa cosetta qua. Ok. E magicamente il mio piccone è lunghissimo. Oh mio Dio! Eh? Stefano, ma come hai fatto? Cacchio sto a vedere. Allora, stai vedendo qualcosa di incredibile. È molto semplice, in realtà. Basta che voi create un qualunque utensile. Ok. A parte la spada, che poi vi spiego come si farà. E aggiungete uno stick. Ok. Nulla di più, nulla di meno. Proprio facile, facile, facile. Ma è bellissimo! In realtà... No, questo non lo posso fare in questo modo. Anzi, forse ci riesco. Aspettate, aspettate. Guardate, campioni. Forza. Vediamo se riesco a fare anche questo. Posso creare quello ancora più lungo! Aia! Oh mio Dio, ragazzi! Ma questa roba è enorme! Questo è veramente eccessivo di piccone. È veramente eccessivo. Guarda la differenza! Guarda la differenza tra i due! Allora, vi consiglio vivamente di utilizzare soltanto long, quello di Marci. Perché questa versione qua si spacca molto più in fretta. Quindi in realtà non è conveniente. Allora. Va bene, va bene. Adesso, createvi tutti l'ascia, fatela tutti in questa versione e guardate come si prende la legna. È veramente incredibile. Quindi ascia come primo oggetto. Ottimo, ottimo. Sempre long, giusto? Facciamo così. Sì, sì, assolutamente. Allora, facciamo così. 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 Poi facciamo così. Ok. Iniziamo a prendere un po' di legna e guarda... Oh, è bellissimo! Oh mio Dio! Lo spacca tutto! Quasi tutto. Quasi tutto. Perché siamo comunque all'ascia in legno, quindi è forte ma non fortissima. Ma è anche giusto così, Steph. Ragazzi. Che c'è? Non me la sento di partecipare in questo video onestamente. Perché? Va bene, va bene. Secondo me questo qui è un cheat. Secondo me stiamo cheatando ed è contro le regole di Marci. Ma se ci mettiamo tutti assieme, va bene. Infatti, cioè il cheat è brutto quando lo fa solo uno. Quando invece lo facciamo tutti, va comunque bene. Io sono di questa idea. Iniziamo a fare la gara di scavo. Partiamo proprio da dover fare anche gli altri utensili, e quindi diventa tutto ancora più difficile. Io la spada forse per ora neanche me la creo. Me la creo direttamente dopo. Ok. Ragazzi. Arrivederci. Via! No, secondo raga, io sono lenta a creare le cose. Arrivo, 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 arrivo. Cosa sta accadendo? Ragazzi. Guardate il posto che ho fatto. Io ho paura. Oh mio Dio, Steph. Non scavate sotto di voi. È quello che ho fatto. È anche io. E quindi come me la gestisco? È anche la prima legge, mannaggia. Allora, ragazzi. Ho già fatto degli errori gravissimi oggi. Ok. Allora, andiamo, andiamo, andiamo. Che bello che poi scava anche in diagonale. Quella è la cosa particolare. È fantastico. È un potere incredibile. Allora, facciamo che mi faccio. Magari la spada. Che paura. Sì, ora devi fare la spada. Una. Piccoli. No, ragazzi. Cioè. Due. Praticamente fai due scavate sotto di te. Sei già pieno di cobblestone, pieno di roba. È incredibile. Allora, nel caso tu volessi creare delle caverne da solo, questo è un ottimo metodo, ragazzi. Funceva molto bene. Sono d'accordo. Ragazzi, ho trovato anche del ferro. Ok. È che non ho trovato il carbone, il che è un problema, perché poi non posso cuocere, non posso creare le cose migliori. Allora, questo è il mobbo. È sinceramente anche l'unica cosa che mi serve. Come il lapis. Mi riprendo questo. Aiuto, ragazzi. Sono trovato troppi oggetti. È possibile. Ma tu sei già sotto sotto, sei. Scusami, Cessi, io devo fare il campione triardale, devo farlo anche qua. Ha ragione però, scusa. Io ve lo dico. Ha effettivamente ragione. 8 minuti di sfida. Chi avrà più diamanti tra 8 minuti c'è il vincitore. Ok, perfetto. Ci sto. Tutto chiaro. Allora. Non devo perdere così, ditemelo, ragazzi. Perfetto. Mi sono fatta il piccone in pietra. Ragazzi, oggi si pensa forte a sto ragazzo. Guarda che sono un campioncino. Mamma mia. Ho rubato il bambù senza dirti nulla e poi guarda qua. Ma dove se ce l'ho io? Quello è stato molto cattivo. Eh... Vedrai. Ma ce l'ha nell'inventario, sai? Quanto ferro, mamma mia. Però dai, non trovo il carbone, che è la cosa più semplice da trovare. Oh, ma io non ho ancora trovato del ferro, invece. Meno male. No, ferro ne ho tantissimo io, ragazzi. Anche io ne ho tantissimo, ragazzi. Mi fa molto piacere, ragazzi. Ne ho proprio tanto, tanto, tanto. Io sono più un zetto. Ops, raga. Che succede? Dungeon. Eh, sì, c'è un mineshaft. Eh, vero? Sto scavando verso i me, oh. No, sto andando dall'altro lato adesso. Però me ne voglio andare dall'altra parte, io non ho fatto la spada. Ragazzi, ragazzi, vi posso dare un consiglio? No. State attenti quando mi date. No, Marci, no. Eh, ragazzi, ho buccato la bedrock. Come buccato la bedrock? No, come si bucca? Si può bucare la bedrock, ragazzi. Come? Vi prego di stare attenti a quello che fate oggi. Dai, vai via, che puzzi. Oh, tu puzzi. Stifoso. Boh. Ho trovato del carbone, finalmente, nel mineshaft. Ma secondo me esiste la super fornace? Può essere. Potrebbe essere bello. Ma sarebbe bello, Stefano, sbaglio. Sarebbe bellissimo. Allora, io voglio assolutamente... visitare questo mineshaft. Il problema è che Stefano mi dice come si fa la spada bella, quindi... E per un indovinello. Cosa vuol dire? Devo indovinare? Esatto. Io ci ho provato a crearla, ma non si... No, dai, ragazzi, basta. Io ne ho 14 di diamanti. Vi calmate un pochino. Marci sta accettando. No, giuro, giuro che non sto accettando. Se volete mi metto a registrare, guardate. Non è possibile. Ok, vabbè. Io non ho neanche il piccolo inferno, ragazzi. Faccio la fornace. Guarda che puoi prendere un quello di pietra, eh. Davvero? Eh, certo. Se scavi di lato... Certo, anch'io, Stefano. Stefano, io sto usando quello di pietra e adesso mi creo quello di ferro. Siete veramente molto bravi voi, eh. Eh, lo so, grazie. Lo sappiamo, lo sappiamo. Ma complimenti. Ma grazie. Ma dove avete imparato ad essere così bravi? Eh, alla scuola di Minecraft. Ah, ho capito. Diamanti. No, dai, ragazzi, basta. Raga, nei mineshaft c'è un disastro di gente? Ferre, solo tu li hai trovati, comunque. Io sono... No, anche Marci. Perché anche Marci... No, no, il mineshaft l'ho trovato anch'io, ma l'ho lasciato proprio. Eh, beh, conviene lasciarlo perdere. Dicaci, dicaci. Quanti diamanti hai? 18. Eh, ne ha più di me, ragazzi, eh. No, ragazzi, io sono a zero, però. Facciamo che valgono anche gli smeralti. Dai, che sono bellissimi, sicuramente. No. No. Diamanti, diamanti. Solo diamanti, solo diamanti. Va bene. Facciamo che vale anche il carbone per me, grazie. Ok, Ferre. Va bene, facciamo che accetto. Grazie. Beh, anche io ne avrei bisogno. Io non ne sto più trovando diamanti. No, Stefano, Stefano sono smeraldi. Ma io sono scarso ogni volta nella sfida di diamanti. Cioè, c'è qualcosa che non va nella mia vita, ecco, i diamanti. Io ve lo dico. C'è qualche sfiga brutta. Allora, e non dirlo a me, Stefano, che non sto a trovare nulla. Però adesso mi posso fare assolutamente il piccolo in ferro. Quindi posso andare più veloce e così via. Posso darvi un consiglio? Sì. Fate in ferro quello super lungo. Ok. E io sto facendo quello, Stefano. Ok, quindi super lungo in ferro, chiaro. Bravi, eh. Complimenti. Io sono quello gigante di ferro, guarda. Qua sono una bestia. Perché cosa combina, ragazzi? Uno, uno. Scava molto più in là, secondo me. Molto più OP. Ma è bellissimo. Io non ci credo. È troppo bella sta roba. È davvero troppo bella. È che io non trovo diamanti nella vita, niente così. Ma niente io. Scusatemi, a me sta venendo un dubbio. Sì. Ma, Stefano, tu stai tenendo tempo. Chi è esploso? Sì, campione. Eh, sì, a me è esploso il diamante. Vuoi sapere quanto manca? Vai, quanto manca. Quattro minuti. No. Io in questo momento ho trovato altri diamanti, campione. Allora, io sto andando tutto in basso, raga. Prima o poi troverò qualcosa. Sono arrivata alla bedrock. Oh, porca miseria. Ho bucato pure quello. C'è la fine del mondo. Io non sto trovando più diamanti, ragazzi. Non mi piace che ci sia la fine del mondo. Io, raga, non li trovo. No, Mark, che era il primo? 24. Allora, Redstone. Ci ha battuti tutti, ci ha battuti, eh. Però, vabbè, manca la metà del tempo, dai. Allora, io ho lasciato perdere il mineshaft, vi informo, e mi sto buttando a scavare randomicamente. Eh beh, ci sta a fare, anche perché il mineshaft si trovano raramente i diamanti. Sì, infatti, secondo me non ci si era lente. No, io, Stefano, sono dovuta andare lì, perché è l'unico posto in cui ho trovato il carbone, ironicamente. Quindi, se no, non potevo cuocere il ferro e poi mi sono spostata. Ok. Grazie di averci raccontato tutta questa cosa. Prego, magari qualcuno lo voleva sapere. Ma a colazione cosa ho mangiato oggi? C'era lì dei campioncini. Non mi sembra, rato, che stai perdendo. La vera dei campioncini. Evidentemente ha mangiato la vera, rato, che sta perdendo. E anche il caffè dei campioncini. Quello non esiste e non è l'uvere. Il caffè con la vera. Se dovessimo mai fare il caffè dei campioncini, potremmo mettere di mangiare pasta su tutti i giorni. Eh, questa è un'ottima notizia. Ragazzi, io trovo un botto di redstone. Vero? Ferro, carbone, basta. Ormai è andato, è andato, Marco. Marco ci fa sempre così per portarsi fortuna. Io ormai lo conosco, quel ragazzo. Eh, ormai Marco ha vinto, dai, basta. Io ne ho solo 14, non sto scherzando. Davvero? Ho trovato l'oro. Ho trovato i quali all'inizio e basta. Mannaggia. Credo di aver trovato l'entrata per l'end. Marco, ma tu quanti ne hai adesso? 29. Ah no, scatate un attimo, li ho trovati altri. Eccolo qua. Quanti ne hai? Beh, io non male. Quanti? 33. Raga, sono a zero. 30 quanti? Sono a zero. 33. Cioè, avete prosciugato tutti i diamanti del mondo. Vero trovati così tanti. Ne ho trovati anche io, 33 SF. Eh, ma sai che io ne ho trovato altri campioni. Oggi non ti lascio vincere, faccio il mondo. Ah, guarda, va bene. Ma ho fatto il tagliando. Scava tutto quello che vuoi, 39 qua. Va bene, basta. Non se ne neanche accorto. Ferro, che sei vicino a me? No. Ferro. Che gli ha rubato i diamanti? Ferro, non mi devi far perdere la sfida. Ferro, tu. Seffio, sono a zero però. Però questa cosa non mi piace per niente. Vuol dire che tu, però, io faceva schifo, eh. Cosa devi fare? La ricarica da 10 euro su Amazon? 10? Sì. Allora facciamo così, 14,90 su PayPal, così per comprare rinascita su Amazon, ok? Io, va bene. Perfetto, perfetto. Ma su PayPal non puoi su Amazon, campione? Che figurazza, eh. Questa è veramente una bici. È la bici di Amazon. Vabbè, ma lui può, perché è un cappuccino. E poi mettiamo anche i referalini e facciamo altri 30 centesimi, magari. Che bello, cavolo. Questo è business, però, eh. E poi facciamo i corse online. Fatturato. Ecco. Basta, eh. Basta. Mi fermate, ragazzi. Basta così. Adesso la smettiamo, per favore. Io cito e me li giveo. Ok, Fere. Quanti te li give? Non ne trovo più. Otto stack. No, 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 lava ovunque. Non li trovo. Houston! Non è possibile che tutti li trovate. Sono andato anche dove sta Steph e non esistono i lavaggi. Houston, la piava della lava! Non credo che quel giorno in chiamata a Houston e avessero detto abbiamo mudo la lava. Ma porca miseria. Ragazzi, c'è solo lava nella mia vita. No, l'acqua che peggio. Steph è counterato dalla lava. No, adesso dall'acqua, ragazzi. C'è uno tsunami d'acqua e lava. Qua c'è il finimondo. Vengo a vedere, Steph. Dai, non è possibile. Fammi vedere? Wow, bello. Tanto non so che fare. Ormai ho perso, quindi almeno gironzolo. Ma si fa da anch'iovere, guarda, c'è stare. Cosa devo fare? Guarda, forse non te lo dico. Aia! Steph sta morendo. Aia! 40, tondi. Ma guarda quanti ne hanno. 38. No, ragazzi. Aia! Ragazzi, io ne ho zero. Ragazzi, un minuto, eh. Perché la mia vita fa così schifo? Guarda, Fere, io sono spiazzato. Non me l'aspettavo di trovarne solo 14. Marci oggi è incredibile. Vabbè, zero, ragazzi. Sto scavando un botto e trovo solo cobblestone. Obblestone. Anche io. Allora, vado qui, vado qui. Magari è una zona fortunata. No, vabbè, se voglio bruciare per l'eternità va bene. Bastava avvisare che c'è la materasu al posto della lava, eh. Amaterasu. Amaterasu. Ragazzi. Calma, calma. No, ragazzi. Io non ci credo che mandate in questo modo. Ma non ci credo proprio. Ragazzi, è un po' scaluto. Io non ne ho più trovato. No, Stef, fammi trovare un diamante. Ma come stai dicendo? Era un minuto, un minuto fa. Infatti. Fere, ma è l'inventario pieno, per caso? Sì. Ah, non so. Se non andrà a si svuotarlo un attimino. Ragazzi. Ma non li vedo uguali. Sto bruciando eternamente. Li vedrei per terra, ragazzi. Amaterasu, quello è la materasu, Stef. Cioè, si vedrebbero. Quindi quanti di marca, alla fine, eh. Ho trovato un diamante. Raga, ho trovato due diamanti. 55, li ho trovati tutti insieme. Che fortuna. Fortuna 25. Ma va a avere. Sì, erano tutti lì. Non è assolutamente colpa mia. Vedete dove era la mia fortuna? Era tutta richiusa in un posto. Allora, io... Io ne ho trovati 38. Aspettate, voglio dire una cosa. Sì. Voglio cedere i miei diamanti a qualcuno per farlo vincere. Sì, a me, Marci, a me. Ti prego, a me, Marci. Allora, io ne ho ben 20. Cosa faccio, Stef? Faccio vincere Marco. Che a me a priori non vale, quindi ok, ho vinto. Grazie, arrivederci. Arrivederci a tutti. Ciao. Voi vorrei dire ciao a tutti, a mai più, eh. In realtà, Stef, volevo darle a te, però va bene così. 20 diamanti meno per te. Mi dispiace. Ok, ok, li brucerò, patenta.